Devo dire francamente che trovo ammirevole e lodevole il ministro, viceministro, ex ministro Calderoli che si permette di dare dell'orango a un ministro della Repubblica Italiana semplicemente perché ha la pelle scura, dal dato dell'orango, ma evidentemente forse non sa che l'orango è un animale nobile, è il re delle scimmie, mentre lui somiglia molto a una scimmia catarrina anche perché con quei colori abbastanza in disuso, un pantalone rosso, una giacca celeste verde delle cravate e dell'iride fa semplicemente ridere, cioè vomitare, ma chi è il suo sarto amico Calderoli? Perché non vorrei capitarci per sbaglio, ha capito? La faccia finita, siete anche voi alla frutta e con elementi come voi, tra l'altro lei ha un'andatura da scimmia, l'ha visto come ballonzola? Siete anche voi alla frutta perché con elementi come lei dove andrete mai, fate veramente vomitare!